Carrello Verde è il sistema di qualificazione ambientale dei punti vendita della grande distribuzione organizzata, garantito dalla Regione Emilia-Romagna. I negozi che espongono il logo Carrello Verde dimostrano ogni giorno la loro attenzione per l'ambiente e il loro impegno concreto per produrre meno rifiuti, utilizzare meno imballaggi, ridurre gli sprechi di risorse ed energia, informare e sensibilizzare i consumatori. Nel 2017 hanno ottenuto il logo 71 punti vendita, 35 a Bologna, 15 a Modena, 8 a Ferrara, 4 a Ravenna, 3 a Reggio Emilia, 2 a Parma e Rimini, 1 a Piacenza e 1 a Forlì Cesena. I principali requisiti che i punti vendita che aderiscono al progetto si sono impegnati a rispettare sono vendere prodotti sfusi o in confezioni biodegradabili, avere frigoriferi e congelatori con sportelli isolanti, vendere almeno tre prodotti con ricarica, avere impianti per l'autoproduzione di energia, vendere prodotti da forno con imballaggi in carta o monomateriale. La Regione Emilia-Romagna controlla e certifica che tali requisiti siano rispettati e si impegna affinché il sistema si diffonda e cresca. Per scoprire il carrello verde più vicino a te, visita il portale Ambiente della Regione.